E' originario di Salerno il 51enne arrestato dalla polizia di Trapani perché ritenuto responsabile dell'esplosione della pendrive che nell'ottobre 2018 ferì gravemente negli uffici della procura della Repubblica di Trapani un ispettore superiore della polizia di Stato. L'ingegnere informatico, arrestato nell'ambito dell'operazione una bomber pantelleria e accusato di aver confezionato pendrive esplosive ed indagato per minacce aggravate, lesioni gravissime, tentata estorsione, fabbricazione, commercio e detenzione di materiale esplosivo e di addestramento a preparare esplosivi. Nell'abitazione del professionista a pantelleria vi era un vero e proprio laboratorio per la preparazione di congegni esplosivi e per miscelare sostanze chimiche, ritenute dagli inquirenti molto pericolose. La polizia inoltre ha scoperto in una cava di contrada Cazen un chilo di sostanze esplosive, ritenute pericolosissime al punto che proprio in queste ore gli inquirenti, considerato che il materiale non è trasportabile, stanno valutando se farlo esplodere sul posto.